Io oggi parlo di un progetto a cui tengo molto e che riguarda l'acquisizione di un esame che si chiama OCT che serve per la diagnostica delle maculopatie ma non più in presenza ma da remoto, cioè farò vedere come noi oculisti possiamo eseguire questo esame stando distanti e il paziente è insieme alla macchina ma non in presenza dell'oculista. Questa è un'applicazione molto semplice, facilmente ormai fruibile da tutti che io presento e che mi piacerebbe potesse essere implementata in Regione Liguria.